Ciao a tutti, siamo tornati E questa è una nuova puntata di The Last Match su Amnesia E qui chi parla è Zack e con me c'è Conoantasì Ciao Ah, amnesia, c'erano chiesto in molti di fatti E' un gioco che fa cagare in mano, ma si dice amnesia o amnesia? Rispondici nei commenti perché io non lo so ancora, amnesia o amnesia E come fanno a dircelo? Amnesia o amnesia? Ammette di un accento sulla, la vedremo Chi si mette di un accento sulla è amnesia Non si rende tanto, non si rende tanto E' un'altra cosa Io ho un po' di tanto E' un po' di tanto E' un gioco per farti che vengono E' un po' di tanto E' un po' di tanto Stiamo capendo posti E' un po' di tanto E' un po' di tanto Stato bello Stato bello ragazzi Un video ho durato un minuto e tredici secondi Sì Ah, anzi Che bello il santo Ma che bello Verniceroso Stiamo, aspetta Ok Bu Bu Questo gioco è nuovo per noi quindi non si può Ma non ho mai giocato Lo conosciamo solo di fama Oggi Sì Oggi caccagini in mano Un punto Possiamo fare qui Scommodere qui Scommodo La candela Bene Se ci sono i fantasmi uccidere A beh leggiamo Scusa Tu leggi Sotto aggiunto al diario Poi amore Sotto aggiunto il lato Per un accesso veloce E poi 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 Apri il tasto E Ma se puoi Gli comprare questo Cosa che vede Non riuscire ad andare avanti Di per risolvere tutti gli enigmi Prendi in mente Per vedere cosa succede Segui a tracciare Queda per trovare la sorgente L'ora ne dobbiamo subito Questa cosa Qui Si è fatto da qui Quindi da quale andare Che si è intelligente Ma cosa è stato gioco Siamo sicuri C'è una cosa sia Trova la traccia di Sascha Di una data Ma No ma Cacare Sì Sembra scuola di Puffolosa Sì Puffolosa Unita sangue Di trago Il vaso Importantissimo Intensile Si regalare Un'arubis 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 Sbornia style E' stata questa Sbornia style Conosciuto l'amico Dei funghi Sbornia style Sbornia style Sbornia style Cerca di prendere qualcosa Questo Questo No no Un'arubis 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 Non è vero Sei falsa Cosa sono quelle Quelli che Non ho avuto Il suo punto Cosa è una raccolta Scatola Contenente L'arubis Un'arubis 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 Perché cammina Con uno sbondato Trovato Perché deve far Venire Paule giuro Lontanasi 2 km Da buonaporto Perché Non mi fido Non mi fido Le porte che non si aprono Un'arubis Il vaso Che poi non so cosa potrei fare Con un vaso Se ci arriva un demone Una sedia Una sedia Una sedia Un'arubis Un'arubis Strumento Ma cosa sono Scatola antitelesca Un'arubis Un'arubis Che cazzo ne facciamo Oh Oh La bottiglia mannara La bottiglia mannara E noi dovremmo andare Di qui Di noi dietro Wow Cosa gioco è fantastico Segui le tracce Guardatevi La porta Hai mai raggiunto Eh no Ti cagare in mano Sasha Gray Oh Diventa sempre più Impossibile Sei tranquillissimo Ne giochi horror Solo quando si scende Fa paura Quando si sale Si muore Ciao 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 Come? La rispondi Ok Perfetto Non devi Sultavo Se ci vedi Che tavole Che tavolo Ce ne trovo Non c'è C'era prima Non c'è Non è vero Non è vero Testa La testa ci guarda Oh cazzo Oh cazzo la testa se ne va La testa se ne va La testa se ne va La testa ha una vita proprio Che cazzo sta succedendo Ma questo è un bug abbiamo visto dentro la casa cosa sta Che cazzo di cosa è Andiamo Nemmeno quale Finisce qui Non si vede più scioccato Sono 5 minuti Faremo i video 5 minuti Scusate per interruzione ma abbiamo avuto problema di crash del gioco e siamo ritornati qui E anche pausa coca cola Abbiamo deciso di nominare questa testa Dennis 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 la testa E partiremo con noi dietro un giù Un oggetto in tutto Ogni video Per ogni video di같i Oh però No la aperta io Damone Damone Come si c Titan I demoni stanno sugli armati rovesciati Oh cazzo Ehi ne ho qualcosa Sa saltare Buona Adesso possiamo fare la pubblicità Tum 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 Per il momento non ci possiamo calare in mano un gioco tranquillo per ora andiamo a Dennis c'è lo tome, puoi capire per seguire un ragionamento logico scendiamo prima da questa porta esattamente e adesso qui troveremo un fantasma in culatore perchè è nettamente buio da quello che è venuto ii amico di Dennis tu stai fermo qui pesca che non so a cosa serva pesca pesca per gli pesci si infatti lo slender lo slender motivo perchè le linee sono diventate tutte storie fumo io non ho mai visto un video su amnesia c'è un santa nelle mode quindi non so grazie qui prima è luminosa lol lol è luminosa cazzo caffottuto la stanza attento quando si trova il burrata su un commentale di un luce lentamente accendi le luci nell'ambiente utilizzando le scatole contenenti di escherciare in opera ah ecco la scena se le sargenti di luce accendere la cina luce come schiacciari e qual è il tasto primi inventario ok ah no vai vicino alle luci valle candele ottimo dire vedi non lo scrivo però no e la sanità mentale poi ce ne va a fare a farsi forte per il mondo muonarci 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 e la denis ci vorrebbe una cosa tipo una torcia beh la città della domanda passo passo ciao denis basta vecchi archivi faccio un momento pausa coca cola coca cola fresca bella comprate coca cola no pepsi tum 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 no ma torsimo per prendere che torcia basta le foto si può trasportare no che merda no noi chiamo si incendi il castello non lo so non lo so non lo so non lo so posso trovare ottimo direi ottimo direi ottimo direi facendo promesso accendi quel cazzo di traccia che sono questo mo ci muore tentamentale da dove si vede che non mi ricordo no c'è l'accento insomma ci diventa pazzo e dato che si va ad accendere girati girati ma la porta vai dietro e non si vede c'è l'accento come è quella stata che abbiamo fatto qua c'è la della sinistra c'è un'altra torcia c'è l'accento ok no c'è l'accento c'è l'accento c'è l'accento c'è l'accento un gioco ok in questo ecco si scende qui e fa fatto non abbiamo più con denis è voluto tornare a casa perché dice che la madre no il suo corpo era tantissimo no perchè c'è l'accento insetti l'accento l'accento si inizia a far sentire l'accento 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 bro bro ok continuiamo a seguire le nostre tracce di sperma di buffa ma se non accendiamo luce poi il gioco finisce perché non riesco a fare ora ma viene il problema di mani dimenti c torno imbecillo però comunque c'è un tasto per vedere la sanità c c risottiamo ai c sta per incoglionare il suo personaggio che è forte direi girati un po' attorno a vedere gli amici che caso sembra lucido ma accendere non ci sono enigmi scusate ci sono basta dimmi tutti i miei che mi stanno vedi sul tavolo ahahah 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 come sta andata la testa sbocca le mani tremolo complimenti ho tutto tutto bene vedi 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 ci serve dell'olio ragazzi ci serve dell'olio ragazzi ci serve dell'olio ok continuiamo vaso il vaso ci sta amico di denis roberts roberts il vaso roberts il vaso roberts il vaso e lantern ah ecco ma molto più intelligenti avere una lanterna quindi mi sa che denis accendi accendio ehm c'era già la torta ecco la porta è contraria si aprono per farvi paura come si fa a toglierla quando non serve più mi sa che chi sia un altro oggetto ti cambia la vita ti cambia la vita tantiti torcia io non voglio off ok sento delle voci delle voci siamo a 10 minuti 8 è tutto trema è tutto trema dottore non sono io dottore mi trema tutto ok apri la cassa scudo si si calma un po' no sapi quella scatta la cassa che non si può aprire conto non si può non si può aprire si fosse che si possono alzare no si possono tirare quanti motori una stufa magica un armadio armadio una scopa una violenta scopa ho fatto la scatola quattro mescato ok vabbè un tappeto per quel cappolo pensavo che cosa la porta ti ha la musica non è normale o Dio un caldo amico un caldo amico interessante questo racconto non fai freddo non fai freddo non fai bambino non fai bambino non fai freddo che fai freddo che fai freddo mancano forse tra due minuti che non prendiamo il video quindi se Dio di volere i miei Sancti mi invoca ancora di amare amare in te se non è così siamo riusciti vai nel rifugio Sancto con il Sancto per uccidere il suo corpo è vecchio e debole mentre il tuo è giovane e forte non potrà paragonarsi a te noi abbiamo Dennis e Dennis si proteggerà un'ombra ti sta seguendo è un incubo vivente che infugge la verità attenti a tutti scappa finché puoi è sempre in culo pure qua c'è Rocco di Fili prende varie simpianze saluto e due scende l'oscurità inculina la scuola c'è poi il precedente è Daniel ciao Daniel ciao allora vediamo cosa c'è di bello in questo mondo di latte intuito guarda apriti ottimo dire sasciagri sasciagri girati un po' a sinistra una leva magica 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 capivi già che c'è no lo festa ok perfetto noi lo sappiamo nulla quindi cioè non avete capito i miei occhi funzionano ancora pensiamo che di interrompita un po' a pericolo continuiamo proprio saliamo la scuola possisi tieni premuto il tasto left shift oh my god it's amazing it's amazing it's amazing va bene interrompiamo quel video con questa colonna è la ragnatina ragnatina salutate la ragnatina vi salutate la ragnatina vi salutate la ragnatina vi salutate la ragnatina vi saluta con 96 vi saluta con 96 vi saluta con 96 vi saluta zack zack ciao a tutti iscrivete mettete mi piace date un bacino a chi vi sta accanto ciao ciao